Silvio Berlusconi ha appena concluso il suo giro per l'Umbria. Siamo a Terni. Prima di lasciare l'Umbria, sperando di salutare lunedì un governo di centrodestra in questa regione, un pensiero alla Corte Costituzionale. Il presidente Lattanzi si lamenta delle critiche. Hanno emesso una sentenza incredibile per cui si potranno dare permessi anche agli ergastolani, mafiosi, terroristi non pentiti che non collaborano con la giustizia. Una sentenza inaccettabile, intollerabile. Lattanzi e la Corte si possono offendere quanto vogliono. Ma io aspetto a pie fermo in Parlamento qualche deputato senatore che si permetta di presentare proposte che vanno nella direzione della sentenza della Corte, e cioè a mettere permessi per gli ergastolani, terroristi, mafiosi, appartenenti alle cosche, non pentiti e che non collaborano. Presidente Lattanzio, quella sentenza è carta straccia. Basta non tenerne conto e non ne terremo conto. Quella sentenza va messa in archivio per imparare a memoria i nomi di chi ha varato una decisione che aiuta la parte peggiore dell'Italia. Presidente Lattanzio, non ne faremo nulla di quella sentenza. Carta straccia senza seguito. Siete d'accordo con me? Dovremmo aiutare gli ergastolani, mafiosi e terroristi o dobbiamo buttare nel cestino la sentenza della Corte che li aiuta? Io non farò passare nessuna legge pro ergastolani, mafiosi e terroristi. Voi cosa ne pensate?